Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio spiegarvi come riparare in tre mosse i capelli bruciati o danneggiati. Insomma, so che molti di voi hanno comunque trascurato i capelli e si sono rovinati molto o hanno fatto molte tinte e si sono un po' bruciati e danneggiati e tantissime di voi mi fanno sempre i complimenti per i miei capelli e mi chiedono consigli. Quindi oggi ho deciso di fare questo video per spiegarvi un po' come rimediare ai danni da capelli danneggiati. Faccio una piccola premessa. Il capello è comunque costituito da cellule morte, quindi non si rigenera. Quindi noi non è che proprio lo possiamo riparare, però possiamo mettere in atto una serie di accorgimenti che fanno sì che il capello ritorni un po' in vita, si rivitalizzi, sia più bello, più morbido, più setoso, ma che allo stesso tempo prevengano i danni futuri. Quindi per il futuro saprete cosa fare per evitare di rovinare i capelli, anche perché comunque nel frattempo ci crescono. Allora, tre step. Primo step, partiamo dalla detersione. Per detergere e lavare i vostri capelli vi consiglio di fare una cosa. In genere noi prendiamo il flacone dello shampoo, lo mettiamo in testa, cioè il flacone, mettiamo lo shampoo in testa e iniziamo a lavare i capelli. In realtà questo metodo è molto aggressivo. Quello che vi consiglio di fare è diluire il vostro shampoo, quindi prendere un bicchierino, mettere un po' di shampoo, un po' di acqua, mischiare e poi lavarvi i capelli con questa soluzione. Questo per tre motivi. Quindi innanzitutto vi assicuro che con questo metodo i capelli si sporcano di meno. Voi avrete i capelli puliti più a lungo, quindi già avete una palla in meno. E poi evitate di stare lì a dover rilavare i capelli quasi tutti i giorni, quindi stressarli ancora di più, rominarli ancora di più, sottoporli al calore e così via. Quindi uno, il capello si sporca di meno. Poi aggredisce di meno il cuoio capelluto. Se avete problemi di secchezza del cuoio capelluto, per cui magari si squame, avete quella sorta di forfora, anche se poi non è forfora, comunque è brutta da vedere. Se voi provate questo metodo, vedrete che il cuoio capelluto sarà meno aggredito e non avrete più schifezze nei capelli. Saranno più puliti a lungo, il cuoio capelluto è meno irritato, è più idratato. E poi comunque aggredisce meno la struttura stessa del capello, perché lo lava però senza aggredire. Poi la seconda mossa è usare un balsamo nutriente o una maschera nutriente. Farlo spesso. Allora, il balsamo nutriente usarlo sempre, a ogni lavaggio fare un bel impacco. Trovate un balsamo che vi piaccia, mi piacciono molto quelli dell'ultra dolce, o anche una maschera. Ma poi la cosa fondamentale è fare degli impacchi. So che è un po' una scocciatura, però se avete i capelli bruciati, salva capelli. E inoltre previene anche i capelli danneggiati, diciamo così. Potete fare una maschera naturale, quindi adesso vi farò un po' schifo, però la maschera che secondo me funziona di più è a base di uovo, olio d'oliva e un po' di limone. Se voi mischiate questi tre ingredienti, fate questo impacco pre-lavaggio, lo lasciate agire mezz'ora, un'ora. Poi vedrete che, ovviamente dovete lavare i capelli, vedrete che dopo i capelli saranno già più corposi, più sani. Purtroppo ha l'inconveniente della puzza, quindi dovrete fare un po' di più di un lavaggio, però veramente è un toccasana per i capelli. Se no, se volete qualcosa di più pratico, il mio consiglio è sempre lo stesso, usate l'olio di cocco, è fantastico. L'olio di cocco applicato sui capelli umidi, prima dello shampoo, come impacco, è veramente fenomenale. Li lucita, li rinforza, li rivitalizza, è fantastico. Il terzo step riguarda l'asciugatura. La cosa fondamentale è usare un phon che non danneggi i vostri capelli. Adesso io vi dirò, io per fare la piega uso il Parlux, che è un phon che costa tantissimi soldi, professionale. L'ho acquistato mentre facevo la scuola di trucco perché avevo anche il corso di parrucco. Fa una piega della madonna, una piega fantastica però è proprio potente e aggressivo per i capelli e li rovina anche tanto. Quindi il mio consiglio è quello di usare un phon specifico o comunque un phon che abbia una temperatura regolabile. Da qualche tempo io sto usando l'Onix, il phon Onix dell'Iresistible Me, che sapete che è una marca con cui collaboro, ma che amo tantissimo. Perché ormai, io dico sempre in tutti i video, che i miei ferri per fare anche questioni di quelli dell'Imetec per esempio, li ho sostituiti ormai con questi dell'Iresistible Me, perché sono fondamentali. E ultimamente sono usciti con questo phon, che è un phon nuovo, che ha delle caratteristiche molto intelligenti. È un phon per così dire intelligente perché ha diverse funzioni specifiche per i tipi di capelli. Capelli danneggiati, capelli normali, capelli densi, capelli fragili. Insomma, ha diverse funzioni, sono regolabili tramite un tastino che permette anche tramite il display di visualizzare quale funzione volete mettere in pratica, quale funzione volete e a queste funzioni corrispondono diverse temperature ma anche diversa emissione di aria, cioè l'aria esce un po' più forte e un po' più lenta. Inoltre il phon è molto particolare perché ha la funzione infrarossi e la funzione ioni, che sono delle funzioni che danno una piega un pochino più bella e danneggiano meno il capello. Adesso vi dirò una cosa. Questo phon, ovviamente se voi mettete la funzione per capelli fragili, non uscirà il getto d'aria potente come quando dovete fare la piega. Uscirà un getto d'aria meno caldo, è meno potente, però è fatto proprio apposta per non danneggiare i vostri capelli. Quindi io vi consiglio che vogliate comprare questo phon che ha 10.000 funzioni o che vogliate usare un altro phon, comunque di mettere una temperatura bassa e un'emissione d'aria più bassa, altrimenti continuerete sempre a danneggiare i capelli. Quindi purtroppo il calore è un po' la prima fonte, però non mi sento neanche di dirvi non asciugatevi i capelli col phon, come dicono molti, anche perché come fate non vi viene mal di testa, cioè io subito sarei malata col mal di testa. Quindi piuttosto optate per un phon particolare come questo con le diverse funzioni, oppure per il vostro phon cercando di tenerlo a temperatura più bassa. Comunque vi lascio il codice sconto della Irresistible Me per acquistare questo phon per chi lo volesse, ve lo lascio qui o nell'info box, e ricordatevi però che vale solo quando non ci sono i saldi, se non sbaglio. Quindi se ci sono i saldi, vabbè, ci sono già i saldi, quindi non c'è bisogno del codice sconto. E niente, questi sono i miei tre consigli, ovviamente ce ne sono molti altri come evitare il cloro, che adesso che sono in piscina sto notando che si sporcano tantissimo, e tanti altri. Però, vabbè, volevo darvene solo tre, che sono quelli più essenziali e più fondamentali. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Mi guardano dalla finestra? Vabbè. Un bacio. Ciao!